siamo davanti al torrente solano nell'operazione di togliersi le scarpe pronto per guadare a piedi nudi il torrente io lo servirò dopo però intanto lui mi farà quindi la videocamera della prendo io guardate che bello se si vedono c'è la vernice sui sassi questo vuol dire che questa cosa si può fare quando l'acqua magari un pochino più dio mio ho perso l'uso delle caviglie sono arrivati azione del mio piede un pochino più